Davvero credi che il modo migliore di trovare nuovi clienti sia produrre un video e sponsorizzarlo? Chiami un'agenzia, un videomaker, fai riprendere la tua attività, il tuo prodotto e poi paghi Facebook, Google o chi per essi per comparire nella timeline di persone che in quel momento stanno guardando video di gattini. Che risultati credi che possa dare? Te lo dico io. Risultati molto deludenti. Come faccio a saperlo? Perché per anni agenzie e imprese mi hanno chiesto proprio questo. E io mi sono rotto di non dare loro i risultati che potrai. Per questo ho ideato il format Expertise. In che modo è diverso? Facciamo una reale ricerca sugli argomenti più cliccati e ricercati dal tuo target e realizziamo una serie di video che rispondano alle loro domande. In questo modo, video dopo video, ti collocherai tra i primi risultati di ricerca per il tuo settore con dei contenuti che hanno un reale valore per chi li vede, perché è proprio quello che stavano cercando. Contenuti che non si limitano a mostrare quanto è bella l'insegna della tua attività o la tua vetrina ma quanto tu sai il fatto tuo e quanto il tuo prodotto funzioni per le loro esigenze. In questo modo non ti limiti a far sapere che esisti a persone non interessate ma dimostri di avere la soluzione a persone che già stavano cercando quello che offri. Piccolo avvertimento, questa strategia funziona solo se crei realmente valore per il tuo cliente e quindi noi ci riserviamo la possibilità di offrire questo servizio soltanto a imprenditori che condividono la nostra visione. Quindi se vuoi cambiare modo di fare video marketing dai un'occhiata al video sul canale di Lime Multimedia e poi contattaci per saperteli più.